Ciao a tutti, siamo la famiglia Cavaleri, non siamo bravi su internet per niente, ma questo blog nasce con l'idea di dare informazioni il più possibile dettagliate o comunque sulle nostre esperienze che abbiamo fatto di viaggio un po' in giro per il mondo con le due nostre piccole pulci, Aurora di 3 anni e mezzo e Noemi di 6 mesi che affronterà ora i primi due viaggi un po' più importanti. Però ci presentiamo, io sono Salvatore, sono siciliano, sono sposato con una milanese. Io sono Claudia, sono milanese, sono sposata con un siciliano e viviamo in Sicilia. Detto ciò, inizieremo inserendo una serie di testi, immagini e informazioni che possono esservi utili il più possibile per eventualmente fare delle vacanze con le vostre popole o con i vostri piccoli. Si, parte a Berlino, domani programmeremo tutto, il viaggio però è pronto. E inseriremo tutte le immagini e tutto quello che potrà essere utile per un'eventuale vacanza a Berlino con i vostri cuccioli. Attualmente abbiamo prenotato volo e albergo, basta. Stop! Tutto il resto è fai da te, ma in realtà è tutto fai da te, quindi il senso del blog nasce proprio per questo, perché non ci appoggiamo ad agenzie, ma facciamo sempre tutto noi. Vi daremo indicazioni dettagliate su come ci siamo trovati negli alberghi, come sono andati i voli, la permanenza, comunque tutto il soggiorno in una città, in una grande capitale europea, oppure anche in voli internazionali che affronteremo quest'anno. Il primo, il più importante per noi, mi sarà in Indonesia, mentre invece Aurora ha già fatto un bel volo internazionale lo scorso anno. E' già qua. Vabbè, non ci dilunghiamo, poi seguiteci, insomma, qualsiasi cosa volete chiederci, noi se possiamo vi risponderemo. Il blog è aperto a tutti, ovviamente, qualsiasi curiosità o informazioni, non esitate a chiedercelo, così diventerà una bella fonte di interscambio per tutti. A presto, ciao, 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 ciao.